Vaccini, arrivate 800.000 dosi in meno di quanto previsto nel primo trimestre di quest'anno in Toscana, il dibattito sulla campagna vaccinale in Consiglio regionale. Aiuti alle zone rosse, il Consiglio chiede sostegni statali per le zone rosse anche se decretate dalla Regione. Una targa per le vittime del Mobi Prince è stata inaugurata a Palazzo del Pegaso nel trentesimo anniversario della tragedia, chiesta all'istituzione di una nuova commissione parlamentare. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio. Tiene ancora a banco in Consiglio regionale la questione vaccini con le interrogazioni del leghista Landi e di Scaramelli di Italia Viva, a cui ha risposto l'assessore alla salute Bezzini dando anche qualche cifra. In particolare nel primo trimestre di quest'anno in Toscana dovevano arrivare 1.800.000 dosi di vaccino. Ne sono arrivate poco più di un milione. L'assessore ha inoltre detto che in Toscana esiste un elenco di riservisti, ma unicamente per le categorie alle quali è aperta la vaccinazione. Sentiamo le interviste. Mi pare, vediamo il 25 aprile, però le tappe di avvicinamento sono state tutte rispettate. Questo grazie all'impegno dei medici di Medicina Generale, che come avevamo previsto sono un'organizzazione molto compatta e efficiente che riesce a contattare fino al dettaglio tutti i soggetti che si affidano a quella catena e che stanno facendo tutti i vaccini che arrivano e che sono destinati agli over 80, che per fortuna sono quelli che stanno arrivando. Quindi direi che allo stato attuale ci sono tutte le condizioni per poter dire che le tappe che c'eravamo prefisse e quindi anche il 25 aprile saranno rispettate. Noi abbiamo chiesto chiarezza, chiarezza su quel termine altro che veniva individuato nella categoria vaccinata con il Pfizer, che è chiaramente un vaccino da destinare in maniera specifica a coloro che operano in prima linea nell'ambito sanitario e agli ultraottantenni. Ancora ad oggi non abbiamo capito in questa categoria altro chi sono stati vaccinati, faremo un accesso agli atti, cioè vogliamo andare fino in fondo per capire quali vaccini sono stati usati e chi è stato vaccinato in base alle categorie. Poi le linee guida con il nuovo governo DRAI evidentemente sono cambiate, quindi è stata evidenziata anche la priorità da dare su queste somministrazioni e si è parlato finalmente di operatori di prima linea, ma è chiaro che la regione toscana non può nascondersi di fronte a un cambio di governo o a delle linee guida perché era evidente che il fatto che si parlasse di vaccinare operatori sanitari in prima linea fosse anche una evidente necessità, una evidente operazione da compiere nel campo vaccinale. Quindi andremo fino in fondo, faremo un accesso agli atti, chiederemo questi dati in maniera più chiara possibile per fare luce su questa vicenda che ha portato la regione toscana a rincorrere anche quello che noi avevamo manifestato e messo in evidenza e anche oggi l'assessore ha ribadito che al 25 di aprile ha individuato questa data come data per che gli ultraottantenni siano vaccinati tutti in prima dose, quindi 320.000 ultraottantenni della regione toscana vaccinati in prima dose per il 25 di aprile. Mancano 10 giorni, ad oggi siamo al 70%, mancano ancora alcune decine di migliaia di ultraottantenni da vaccinare che sono la categoria prioritaria perché, come sappiamo, sono coloro che più sono stati ricoverati, più si sono ammalati e purtroppo più sono morti. Dopo aver evidenziato, anche grazie al nostro lavoro in Consiglio regionale, alcune criticità, aver messo in evidenza alcuni punti, alcuni limiti di quello che è avvenuto nei mesi scorsi, a mio avviso adesso si sta iniziando a migliorare, i numeri dimostrano e dicono questo, credo che si debba fare bene e velocemente, bene l'intervento della protezione civile, bene anche il fatto che si possano utilizzare più metodologie di vaccinazione, i medici di famiglia stanno facendo la loro parte, però bene anche l'utilizzo degli hub, credo che gli over 80 debbano essere fatti quanto prima, così come le persone fragili, e credo che si debba avere certezza delle dosi e un'organizzazione che deve essere supportata dalla Commissione Speciale. Noi abbiamo chiesto che venga istituita velocemente e questa perdita di tempo non è necessaria, serve che maggioranza e opposizione si possano incontrare per dare un supporto fattivo, collaborativo, e questa Commissione deve essere costituita anche da degli scienziati, da dei tecnici, che possano supportare il soggetto decisore politico per fare una migliore azione massiva che nei prossimi tre mesi possa consentire effettivamente di completare la vaccinazione. Ma sui vaccini c'è tuttora un grande caos, allora io voglio essere molto chiaro, noi siamo stati molto chiari come Fratelli d'Italia, il fatto che arrivino poche dosi non è responsabilità né di Gianni né di Bezzini, i quali però devono dare risposte alle tantissime persone preoccupate, fragili, over 80, coloro che hanno bisogno di avere la somministrazione presso il proprio domicilio, che continuano a impazzire da un sito all'altro. C'è ancora troppa confusione in questo, la Regione Toscana deve attrezzarsi molto meglio nel dare risposte e soprattutto queste risposte non possono essere affidate soltanto alla via telematica, specialmente quando si parla di over 80, perché andare su un sito internet non è la stessa fatica per un ottantenne, per il sottoscritto o addirittura per un sedicenne, è evidente che è un percorso differente. Quindi da questo punto di vista ci sono tantissime persone che ci chiamano quotidianamente, come chiamano quotidianamente i consiglieri degli altri partiti di maggioranza e mi immagino anche della Giunta. A questi dobbiamo dare delle risposte dopo ormai mesi che è cominciata la campagna vaccinale e la risposta non può essere limitata a un sito internet, a uno schermo di un computer. La principale è sicuramente il fatto che i vaccini non vengono consegnati e ancora c'è da puntare l'indice verso i contratti capestro che sono stati fatti dall'Unione Europea nei confronti delle multinazionali del farmaco che mancano di fatto e hanno mancato a degli accordi che sono stati fatti. L'altra è l'organizzazione. Ancora oggi la piattaforma dava delle criticità, per esempio i riservisti non si possono prenotare perché già probabilmente inseriti al sistema e non riescono ad accedere. Quindi in pratica abbiamo di nuovo questo problema. Abbiamo il problema che ancora molti over 80 non riescono e non hanno vaccinazione, non sanno cosa fare, aspettano di essere chiamati ma non sanno se saranno chiamati e la commissione speciale che era stata richiesta ancora non si attiva. Probabilmente l'attiveranno quando ormai sarà arrivato il Governo nazionale a imporre alla Toscana una sterzata netta su come viene gestito il piano vaccinale che continua a essere fallimentare nonostante si continui a dire che le cose stanno migliorando. Già il fatto che dicano che stiano migliorando in pratica è un implicito riconoscimento che finora sono andate male e io dico molto male in realtà. La campagna vaccinale va ancora a rilento in Toscana. Certo c'è un dato che noi ci preme sottolineare da forza responsabile quale siamo. Se non arrivano i vaccini diventa difficile vaccinare. Abbiamo contestato in una prima fase alcune scelte della Regione Toscana. Non eravamo favorevoli a far vaccinare gli avvocati. Avevamo ragione. Oggi gli avvocati non si vaccinano più. Abbiamo chiesto di vaccinare immediatamente gli over 80. La Regione era indietro. Oggi sta facendo con un sacrificio un avvicinamento a quello che è la media nazionale anche seppur in difficoltà e con dati peggiori della media nazionale. Avevamo chiesto di far vaccinare tutti i malati oncologici. Non soltanto quelli che hanno finito la chemioterapia o le cure entro i sei mesi ma di vaccinare tutti quelli che sono in follow up. Cioè tutti quelli che hanno i cinque anni previsti dal sistema sanitario nazionale e dal sistema sanitario regionale con i codici di esenzione. Il Consiglio regionale ha detto che avevamo ragione. Aspettiamo che anche il Ministro apra a tutti perché diventa inaccettabile vaccinare solo una parte di quei malati. E mi domando, gli altri non sono fragili, non sono super fragili. Tutte le statistiche dimostrano che il 16,7 per cento dei malati oncologici nei cinque anni di follow up se prendono il covid muoiono. Per noi è inaccettabile. Vanno vaccinati tutti. Ecco perché chiediamo due cose. La prima è che il Governo faccia un'operazione e acquisti le fiale vaccinali necessarie a vaccinare tutta la popolazione. Il secondo elemento è che la Regione Toscana si metta in riga, faccia gli hub. Abbiamo chiesto gli hub per ogni comune. Vedete, se noi non facciamo una diffusione capillare dei centri vaccinali non riusciremo mai a vaccinare. Abbiamo chiesto di vaccinare 24 ore su 24. Abbiamo chiesto lo scudo penale per medici, infermieri e mondo del volontariato che va a vaccinare, compresi i farmacisti. Siamo stati favorevoli alla vaccinazione nelle farmacie, ma occorre che questa vaccinazione venga fatta e venga fatta al più presto possibile. Siamo fermamente convinti che la fase pandemica si può fermare soltanto vaccinando. Ecco perché abbiamo chiesto un'accelerazione alla Regione Toscana. Aiuti e sostegni statali alle attività anche se è la Regione a decretare la zona rossa. Lo chiede una risoluzione della Commissione Aree Interne approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. La risoluzione impegna la Giunta regionale ad attivarsi in questo senso nei confronti del Governo e del Parlamento, sollevando la questione, se necessario, anche in conferenza delle Regioni. Sentiamo. Come Commissione Europa abbiamo messo in campo una serie di audizioni, tra queste anche i vertici di ANCI e UPI che nel cammino di avvicinamento alla grande sfida del Next Generation EU ci hanno rappresentato una necessità, ovvero richiamare l'attenzione al fatto che si debba puntare su un rafforzamento e anche su un adeguamento anche professionale del personale della pubblica amministrazione e degli enti locali. Da qui questa proposta di risoluzione che trae spunto anche da un accordo sottoscritto in sede nazionale nell'ambito dell'azione del Governo e che ovviamente richiama la Giunta a far sì che questo piano approvato dal Governo venga attuato in tutte le sue parti e che si possano costruire anche elementi di condivisione sui territori per capire quali sono le necessità delle pubbliche amministrazioni. Perché senza una pubblica amministrazione forte abbiamo il sospetto che anche la realizzazione e la concretizzazione del Next Generation EU possa anche avere qualche problema. La proposta di risoluzione nella commissione aree interne era volta a trovare sostegni dal Governo per le zone rosse cosiddette regionali, chiamiamole così, per le quali per ora sostegni non ne sono stati dati. E in particolare queste zone rosse regionali, quelle che hanno sofferto di più, sono ovviamente le aree interne marginali e montane. Non abbiamo un esempio con la montagna pistoiese, noi siamo stati a Pistoia Rossi per molto tempo regionalmente, quindi le attività della montagna pistoiese già venendo da due annate senza aver fatto niente si sono trovati veramente in condizioni disastrate. Quindi abbiamo votato all'unanimità questa commissione, speriamo che il Governo dia dei fondi in più per queste zone rosse regionali e quindi che la regione li destini in particolare a queste zone interne marginali. Io ho detto che forse la regione poteva pensarci da subito a dei ristori per le zone rosse regionali. Infatti avevamo votato una mozione in Consiglio quando fu istituita la prima zona rossa regionale, a Chiusi. Aveva portato la mozione il Presidente Scaramelli, fu votata all'unanimità proprio per dare l'istoria alle zone rosse regionali. Quindi se il Governo non dovesse darle si spera che sarà poi la regione a superire a questo. È un provvedimento utile come al solito se in conferenza Stato-Regioni cerchiamo di rendere giustizia alle comunità che abbiamo ulteriormente aggravato di chiusure durante l'ultimo periodo. Rispetto a questo testo che i fratelli d'Italia comunque ha votato. Speriamo, come abbiamo proposto in sede di Commissione, che nelle impegnative qualche volta si impegni la stessa regione toscana a dare quelle risorse che si chiedono al Governo centrale. Qualità di Vice Presidente, ho aiutato appunto tutta la Commissione alla stessura di questo atto. L'unica cosa è che l'ultimo giorno in Commissione, quando c'è stato il voto durante il quale io mi sono astenuto, è perché c'era stata una comunicazione del Presidente del Consiglio Draghi con l'istituzione di una task force per cui doveva praticamente a scalare task force regione, enti comunali e allora ho chiesto l'astenzione per cercare di capire bene quali fossero le direttive che ci arrivavano appunto dal Presidente del Consiglio. Ma ho sottolineato quelle che potevano essere, ritenevo giusto, di dover sottolineare in aula quali dovessero essere, secondo me, le criticità di questo documento, però abbiamo votato a favore perché ci abbiamo lavorato insieme, per cui assolutamente grazie a tutta la Commissione, grazie a Presidente. Cambiamo argomento, il Consiglio regionale ha ricordato il trentesimo anniversario della tragedia del Mobi Prince. Il Presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo, ha inaugurato una targa in ricordo delle 140 vittime collocata nella stanza dell'Armadio della Memoria, nei locali della Biblioteca del Consiglio. Sentiamo il Presidente. È un gesto importante perché ricorda una delle stragi più terribili che ha vissuto la nostra Toscana. Quando il 10 di aprile sono stato a Livorno, negli occhi dei familiari delle vittime c'è tanta voglia ancora di verità e di giustizia. Noi oggi, deponendo qui la targa sul trentennale della strage del Mobi Prince, vogliamo dare un segnale chiaro, il segnale che quella verità e quella giustizia devono essere ritrovate. Sono insieme ai colleghi dell'Ufficio di Presidenza, alla collega Fratoni, al collega Casucci, insieme al collega Gazzetti, al collega Landi per deporre questa targa e per depositare una rosa rossa e per dire che tutti insieme chiediamo a gran voce che questa giustizia e questa verità possano venire davvero a galla. Da aggiungere che una mozione presentata da Francesco Gazzetti del Partito Democratico ed approvata dal Consiglio regionale impegna la Giunta a sostenere con forza l'istituzione di una nuova commissione di inchiesta parlamentare per l'accertamento delle responsabilità della tragedia del Mobi Prince. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.